Location non esotica, infatti sono a casa mia però ho cambiato inquadratura, sono passato dalla webcam, una bella fotocamera che insomma fa un po' più figo, soprattutto durante le live sulla piattaforma Viola, la qualità è aumentata in maniera imbarazzante, devo mettere anche un farettino in maniera tale che insomma arriva un po' più di luce bianca e non gialla, l'unicorno ovviamente non è mio ma è di mia sorella, quindi sono sempre il vostro Riberoski, non preoccupatevi, non mi hanno rapito e legato in una stanza. Oggi questo è quello, primo appuntamento con i Toz, quindi come al solito mettetevi comodi che cerchiamo di rispondere a quante più domande possibili che avete lasciato sotto lo scorso episodio, già da subito iniziate a lasciare le domande alle quali risponderò mercoledì successivo. Quindi passiamo subito sulla schermata del PC dove abbiamo Walter Solero che ci fa notare il cappellino esotico e il primo che domanda è Angelo Valentino, meglio Neymar base Davide o Ronaldo base Chiesa Toz? Io raga non so più come dirvelo, quest'anno si gioca Ronaldo e altri 10 giocatori, quindi tutta la vita Ronaldo base e Chiesa Toz che è meglio di Davide e Ronaldo che da punta è anche meglio di Neymar, quindi tutta la vita questi due. Dunque, inoltre ci teniamo a farvi notare che quando vi metto il cuoricino sotto questo o quello vuol dire che ho risposto alla vostra domanda, quindi alzate le antennine. Nicola Santogliani, ciao Ribe, chi è meglio tra Campbell Moments, V10 Prime e Blank Prime? Tra questi io preferirei il miglio verde Campbell che secondo me ha un bel body type e anche il più rapido ed è quello che secondo me è meglio rende arrivati a questo punto del gioco, sebbene stiano comunque uscendo tanti Toz che insomma fanno da padrone in questo periodo. Giovanni Donnarumma, da affiancare Renato, meglio KDB Toz o Vidal? Giovanni, se hai visto la mia review penso che non avrai dubbi, vai tutta la vita su KDB che è un giocatore pazzesco. Francesco Giuntoli, ciao Ribe, secondo te è meglio avere Buendia Toz come Ciccino nel 4-3-1-2 e Cristiano Oro come punta o Mount e Barnes tutta la vita per lo stesso discorso di prima, Buendia come Ciccino e Cristiano da punta, Cristiano e altri 10 ragazzi. Andrea Iardi, quali sono delle statistiche più da C.O.C. o da T.T.? Intanto in base a quelle statistiche posso decidere se un giocatore nel 4-2-2-2 ad esempio può giocare a T.T. o C.O.C.? Allora per quanto riguarda questa domanda devi calcolare che nel 4-2-2 i C.O.C. in realtà sono più dei C.O.S. e dei C.O.D. quindi un qualcosa che è molto più simile a degli esterni, quindi le statistiche che dovete cercare sempre di preferire sono Un'ottima velocità, dei buoni passaggi, 5 skill ancora meglio, 5 di vede debole a completare il tutto, quindi statistiche di passaggio, rapidità, 5 di skill e se poi c'è pure un buon tiro, ben venga. D.T. meglio Ballack Moments o Zilinski Toz, Neres o Neymar? Allora tra Ballack e Zilinski qualità prezzo io ti dico vai di Zilinski, mentre tra Neres e Neymar, così come ho detto nel video in cui analizzavo Neres, io preferisco Neymar, onestamente. Ciomarco, usi Zambrotta, Moments, DC e Cancelo da terzino, che le due metti a 7 e chi a 10, guarda è pressa che indifferente, io preferisco mettere però il giocatore che va a fare il terzino a 7 d'intesa, quindi parti magari con Cancelo a 7 e poi switchi Zambrotta a 10 d'intesa. Fabio Pagan, meglio Mertens, Watif, Ronaldo base, lo sai, non puoi anche usarlo come punta e non attacca 2, allora, Ronaldo meglio di Mertens per il solito discorso, Lozano, non lo preferisco da punta, e non attacca 2, dato il 3 piede debole, quindi occhio meglio da esterno. I miei 4 offensivi, dice Marco, sono Cristiano Puskas di Atta Neymar, chi ha tt e chi esterni, giocherei con Cristiano Neymar punta e Puskas di Atta da esterni, soprattutto Puskas che con quel 3 di piede debole più lontano dalla porta meglio è. Vito Raganato, mi è uscito Raul Moments dal pack, ci sta al posto di Mbappé e Rodri Tozza al posto di Verababy? Allora, Raul è un ottimo giocatore, molto sottovalutato, però da qui a dire che è meglio insomma di Mbappé che ha un 5 skill ed è più agile, ti dico onestamente di no, ma lo puoi testare visto che ce l'hai uno scambiabile, Verababy è superiore di Rodri. Mount Tots da Cicci insieme a Kimmich Toti? No, Mount da Cicci in un 4-4-2 non va bene, Mount può fare la mezzalla al massimo in un 4-3-1-2 o altrimenti il ruolo che io gli preferisco è da esterno C.O.S.C.O.D. Sticcio, da terzino, Roberto Carlos Baby o Show Tots? Io ti dico onestamente Show Tots visto che Roberto Carlos ha un work rate che lo rende un po' indisciplinato. Alessandro Bursino, avendo la difesa Roberto Carlos Smith, Mendy, Zambrotta e De Sciglio e inserendo a breve Campbell, tu chi sacrificheresti come posizionessi la difesa a 4? Avendo Mbappé Potme e Pele tu consigli di fare Dalglish? Allora Alessandro, partiamo dalla fine, nonostante il mio enorme amore per Dalglish, lo sapete, Mbappé e Pele insomma sono entrambi superiori, quindi next, aspetta magari qualche smissi un po' più golosa. Mentre per quanto riguarda la scena difensiva che hai, magari puoi togliere De Sciglio, fare una difesa in termini di difensori centrali con Zambrotta e Campbell e ti giochi Roberto Carlos e Mendy sull'esterno. Pietro Piazzotta, Fofana o Ruben Dias? Sono problemi di budget? Se hai visto il review gameplay non dovresti avere dubbi ma ti dico Fofana, vatti a vedere come rendono in game. La via di Carlito, ho trovato Valverde e Tots nei pick, fino ad ora hai giocato con Metallica nell'altra metà Serie A, come puoi britare Valverde ovviamente cambiando squadra? Grazie della risposta. Allora, Carlito, onestamente io di andare a mettere all'interno di questa squadra Valverde semplicemente perché l'hai trovato non andrei ad alterare gli equilibri, perché a breve usciranno i Tots di Ligame e di Serie A che secondo me saranno superiori anche probabilmente a Valverde e ti creeranno meno problemi. Quindi lo so, è un peccato avere quel giocatore lì in panchina, però comunque Valverde c'ha anche un problema perché non è un 4-4 ma è un 3-4, quindi non è questo fenomeno, per carità, è un centrocampista clamoroso, però io aspetterei prima di fare stravolgimenti. Alex10, come punta è meglio Rashford-Tots o un Bappe Potm vicino a Ronaldo Toti? Io onestamente ti dico un Bappe Potm perché Rashford-Tots l'ho provato, ti dico un bel giocatore, ma meglio da esterno e costa sicuramente tanto. Davide Dell'Aquila, ho Kanté Ifrosso, Gundogan e Ndombele che immediata dovrei utilizzare, io utilizzerei Gundogan e Ndombele onestamente, Kanté ormai ha fatto un po' il suo. Giulio Castellani, migliori difensori centrali, terzini adattati sotto i 300k, Yashin è valido come portiere. Allora, Yashin, il mio amico Coppolaro l'ho sbustato dal picchi con un po' di tempo fa, devo dire che non mi ha mai tradito, veramente un portiere clamoroso. Mentre migliori difensori centrali, terzini adattati sotto i 300k, terzini adattati magari fa un po' fatica, difensori centrali ne sono usciti tanti con i Tots, a partire da Fofanà fino ad arrivare a Kondé che secondo me è il migliore. Mr. Rec ci chiede, quindi non faranno eventi per l'europeo come è stato in edizioni precedenti con i mondiali? Non dovrebbero fare? Perché come vi dicevo, gli europei sono un'esclusiva di PES, quindi occhio. Davide Galizia, vambissaco James vambissaca, che è tipo il mostro finale, conviene fare l'SBC di Zambrotta, 500k la sfida la pagheresti 100k, ti dico per 100k è regalato Jeff, è un ottimo giocatore Zambrotta, sia terzino che DC, te lo ritrovi e ti svolta. Leonardo Prandi, ciao Ribe, meglio Show Tots o Riz James? Da DC tutta la vita James, raga come avete detto anche nella review, Show è un bel giocatore ma meglio se vi fa il terzino. Ruben ci chiede, a tal meglio punta insieme a Burns o Mount Tots, CC o al contrario? Assolutamente così, a tal punta insieme a Burns con Mount che fa il CC. Spero in un rombo perché in un 4-4-2, vi ripeto, non va bene, tra Dunjolf e il maestro, sicuramente Dunjolf non si gira nel 4-2-3-1 perché in attaccante tiene un body type più importante, meglio il maestro che sguscia. Francesco Malafronte, o Walker86 e James? Quale faccio giocare TD e quale DC? Io lascerei Walker, difensore centrale e James terzino. Van Dyke, Toti o Van Bissaga? Questa è una bella domanda, ti dico Van Dyke, Toti che ho provato sull'account della nazionale quando ce l'è andati. Fenomenale, raga, vi giuro. Van Bissaga è fortissimo, però Van Dyke, Toti è Van Dyke, Toti. Come punta, in un attacco a 2, a fianco a Son, è meglio Burns o Neres? Ti dico Neres per la quantità di skill e anche visto il fatto che è probabile tu l'abbia già sbloccato, mentre Burns costa un fottio. Alessio Grandi, Donnarumma, Bruno Perez, Gosenza, Lotteo, Perisic, Vidal, Tonali, Pereira, Zapata, Palasi, upgrade da fare, io aspetterei esattamente i tozzi di Serie A, mi solletica già il palato, dico un probabile Barella al posto di Tonali, in difesa anche se potrebbe fare qualcosa, anche se al momento ci sta, Perisic pure è un indiziato a essere sostituito, vediamo i tozzi che arriveranno. Ciao Scorse, è un buon upgrade levare Rodri e mettere Bruno a 90, oppure migliorare qualche altro reparto? Allora, Bruno è sicuramente molto più forte di Rodri, tocca capire un attimino come si è messo negli altri reparti, quindi io a naso dico vai di Bruno, perché rispetto a Rodri, insomma, ti fa un bel salto di qualità. Bongo ci chiede, Dest o Bercice? What if da DC? Ti dico vai di Bercice, perché Dest è meglio da terzino. Nartex, meglio Mendi Base o Show Tots? Varambase o Golson? Ti dico, Varambase per me non mi ha fatto il suo tempo, vai di Golson, mentre tra Mendi Base e Show da terzino potresti anche preferire Show magari, se tu l'hai piccato, ce l'hai non scambiabile, altrimenti vai con Mendi che il suo lo fa, qualità prezzo. James sta stufando, hai trovato Fofanai? Da pazzi vendere James? Assolutamente no, Fofanai è un gran DC, se la gioca con questi... terzini adattati, lo puoi piazzare. I due migliori esterni del gioco? Budget illimitato, no Garrincia. Allora, i due migliori esterni del gioco, budget illimitato, io ti dico, da un lato ci piazzi i bappettoti, dall'altro lato un bel Digno Moments. Esterni di... se poi intendi invece esterni puri, io ti dico... a sinistra, eh... ci potresti piazzare un Digno Prime, dall'altro lato, se non ti piace Garrincia ti dico Best, però per me Garrincia è più forte di Best. Però se devi... ti servono budget illimitato, due esterni, i bappettoti, Digno Moments sono i migliori che vengono usati anche ai tornei. Gianluca di Lustro, ci arriva due domande. Il 3-4-1-2 sarebbe da provare e poi ho comprato Digno, volevo provarlo. Il brinco assurdo, però non so, a questo punto del gioco è ancora competitivo, ho pagato 1-9 e sta 2-2. Allora, per l'attacco io lo toglierei, perché questo secondo me è un COC, e comunque il mid arrivati a questo punto, qualità-prezzo, secondo me non ci sta. Mentre per quanto riguarda il 3-1-4-2 può essere un modulo interessante per recuperare le partite, ma deve essere masterato, perché altrimenti siete tutti su e spesso e volentieri beccate delle imbarcate pazzesche. Magic Real, in difesa di Cancelo, Zambrotta, Teo e James, hai trovato Fofanà, come consigli mettere la difesa tutti inoscambiabili? Allora, io il tentativo di togliere Teo e mettere Fofanà lo farei, perché altrimenti rimarrei con la difesa che c'hai se ti trovi bene. Gabriele, SM Moments o Valverde? Ti dico vai di Valverde tutta la vita. Taviz, miglior coppia di DC con un milione di budget, anche terzini adattati. Ti dico, potresti fare, se ti serve di un unico campionato, Bambissaca-Fofanà, con un milioncino penso che te la cavi, secondo me. Altrimenti, se ti serve una linea completa, potresti fare anche Mendy, Varane, Quonde e magari lì a destra ci piazzi un terzino, non so se hai Zambrotta. Vincenzo Manzueto, DC meglio Varane-UCL Ruben-Dias, tutta la vita Varane-UCL è veramente un giocatore finale, meglio del Toz, vi dico. Zahida-Lajar, spero di averlo detto bene, bella ripeta, DC è meglio un Babu o Muchiele? Guarda, ti dico, Muchiele il baccone, secondo me è meglio metterlo terzino, perché questo weekend ho provato un Babu dopo tempo, contro un pro player, l'ho piazzato DC al posto di Varane-Tots, mi ha fatto godere fortissimo, quindi dico un Babu. Dark Simo, difesa con Teorosso, Varane, Cannavaro e Cancelo, vorresti mettere due terzini a fare DC per togliere Cannavaro e Varane. Allora, 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 tu potresti tranquillamente spostare Teo al posto di Varane, prendi Mendy che ti fa il terzino e magari potresti prendere Bambissaka e ti fai quindi Mendy, Teo, Bambissaka e Cancelo, Teo se lo riesci a mettere a 7, se no potresti far volare nell'iperspazio Teo e al posto di Teo ci metti Kondé, che è comunque come una sorta di terzino adattato, se la gioca benissimo. Massimiliano Martello, Cioribe, Puyol, Zambrotta, Muchiele, Show, Rubendias, Fofana, tutti non scambiabili. In una difesa a 4, allora io farei giocare sicuramente Show da terzino, sicuramente Fofana da DC, Poi probabilmente ti piazzerei Rubendias e Zambrotta, Zambrotta terzino. Marco della Libera, della Libera, Bella Ribe in coppia con Renato, meglio Jones, Gundogan, Don Beleo, Souce, e che io ti dico onestamente Gundogan, l'ho provato, mi è piaciuto tanto e costa 2 lire. Matteo ci chiede, qual è la migliore posizione per Bruno Toz nel 4-2-3-1, ovviamente quella di C-D-C, a mio modesto modo di vedere. Artic-C, come dici accanto a Muchiele, meglio Fofanaka, Navarro Prime, Campbell, Rubendias o Show adattato, ti servirebbe un C-O-C, Aipope, Cancelo, Muchiele, uno dei DC che hai scritto prima, Show come terzino, Blanc, Renato, Bruno, Rashford, Atal, e ti manca il C-O-C, in caso mettere Atal C-O-C ti servirebbe una punta con un milione. Allora, come dici accanto a Muchiele, onestamente io ti direi vai di Fofanaka tranquillamente, mentre per quanto riguarda un C-O-C, io ci piazzerei il sempreverde Neymar se lo riesci a inserire, altrimenti ti piazza, Atal C-O-C e ci piazza Mbappé da punta e te ne vai alla grande, visto che Atal è un 5-5. Daniele va, Ciccine e Rombo, accanto a Ndombele, Gundogan, Bruno o Vinaldum? Io ti dico vai di Bruno, di Gundogan-Totz, perché Bruno dal 90 in poi dice ancora la sua, gli altri ormai si sono fatti un attimino antichi. Alessandro Calabrese, meglio Ndombele o Vidal, tutta la vita Vidal, Alessandro. Antonio Annunziata, meglio Rubendias-Totz, Closterman e Alaba? Ti dico, tra questi qua, se la giocano Rubendias e Alaba, Alaba non l'ho provato, a naso ti dico Rubendias, Malaba pure è simpatico, meglio Bruno, KDB, Stefano, tutta la vita KDB. Gundogan-Totz o Goretzka in coppia con Paoligno? Ti dico invece Gundogan, che è veramente forte, però occhio a un eventuale Goretzka-Totz. Francesco chiede, insieme ad Essie Moment io andrei di KDB-Totz, che è più forte di Bruno Potm, mentre Bongo ci chiede un'altra domanda, l'esmeluo Gundogan, direi Gundogan onestamente. Essendo Dalglish da buttare i vari fodder, ti dico Dalglish, a meno che tu non voglia continuare ad aspettare, meglio Mount oppure Kanté in un 4-4-2, Kanté, visto che Mount non è che difende in maniera eccelsa, e rispondiamo a quest'ultimo carrellone di domande. Cristiano Ronaldo-Rashford, dico Ronaldo, FreshBoo ti chiede, Cristiano 95, Mbappé esterno, Neymar C-O-C, o Neymar 4-4-2 in fascia, Mbappé e Cristiano in attacco. Avendo già Walker prende un DC pure un altro terzino. Allora, ti dico... ti dico, Fresh, per quanto riguarda lì davanti, io farei Neymar in fascia, Mbappé e Cristiano da punta, così come ho anche io. Per quanto riguarda la difesa, se ti trovavi benissimo con Varane e vuoi cambiare, io ti dico potresti prendere un Bambissaka e te lo adatti, che è un mostro, quindi potresti fare una scelta di questo tipo. In un 4-4-2 chiede fra chi come Cicci, Tram, Dombele, Rodri, Socek e Vijnaldum, se te ne servono due, io onestamente andrei, Tram, Dombele e Rodri, sbarra Vijnaldum. A che ho Ruben Dias, ti dico Ruben Dias, De Bruyne, Tozzo, Renato, questa è pesante. Guarda, ti dico... Se hai tutti e due non scambiabili, De Bruyne, altrimenti qualità-prezzo del Renato, perché vuol dire che già ce l'hai. Mentre Filippo Gianolio chiede, Reguillon è utilizzabile anche da DC? Ti dico di no, perché è piccolino ed è meglio se faccia il terzino. Chiudo con questa rima epica, questo primo... Primo, questo, quello ragazzi, versione Toz. Mi raccomando, caricate di commenti questo video per il prossimo episodio di settimana prossima, vi ricordo di lasciare un like. In descrizione trovate tutte le info per le live giornali sulla piattaforma Viola. Ragazzi, un salutone e un abbraccio dal vostro Riberoski con questa nuova inquadratura. A presto, ciao ciao!